Ragazzi video velocissimo per ricordarvi che entro il 4 settembre i partecipanti del contest dovranno aver mandato tutte le clip E chi non l'avrà mandata sarà squalificato automaticamente e lascerà il posto a qualcun altro Quindi mi raccomando entro il 4 settembre mandate le clip perché appunto se no verrete squalificati Ciao